Il carnevale si avvicina e cosa ci può essere di più divertente per i bambini se non realizzare da soli la propria maschera? È iniziato ieri con un primo appuntamento pilota il laboratorio di realizzazione maschere rivolto a bimbi di squaglie elementari e medie tenuto da Danilo Conti e Antonella Piroli, entrambi dell'associazione Tanti Cosi Progetti di Ravenna. Si parte il 4 febbraio. Il laboratorio consiste nell'approfondimento di tecniche di realizzazione di maschere attraverso tecniche di scultura con la creta tecniche di ricopertura di questa creta con della garza e della colla e in seguito tecniche pittoriche per realizzare poi il colore e la maschera in modo definitivo. Ci piacerebbe molto pensare che è un primo step di un atelier che si rivolge al mondo dell'infanzia in modo da poter approfondire delle tecniche artistiche quali la scultura, la pittura e poi anche l'azione teatrale se uno vuole, oppure la scrittura per il teatro, insomma tutta una serie di attività che poi fanno parte del nostro lavoro. In questo senso qui, assieme ad altre realtà di Ravenna e in collaborazione stretta anche con il Comune, stiamo cercando di dare vita ad una casa delle arti per l'infanzia. e noi come Tanti Cosi Progetti e poi altri come Drammatico Vegetale, Teatro del Drago e Cantieri, siamo insieme e abbiamo avuto questa idea di creare una struttura permanente che si rivolgesse appunto all'infanzia. Le maschere che ho visto in lavorazione ora e quelle che ho visto già realizzato comunque sono maschere sicuramente complesse, quindi come funziona la preparazione e quante giornate ci vogliono per realizzarle? Dunque, gli incontri per realizzare questo tipo di maschere abbiamo pensato di, dovrebbero essere tre, il primo incontro oggi, poi il 4 e l'11 di febbraio. In realtà abbiamo pensato di aggiungere una ulteriore data che sarebbe il 16 di febbraio, quindi fare tre appuntamenti, 4, 11 e 16. Il 4 si scolpisce la creta che poi deve seccare per una settimana, il giorno 11 si riveste con un rivestimento di garza e colla e il giorno 16, quindi alla fine questo rivestimento sarà bene asciutto, si potrà dipingere e successivamente completare per diventare poi una maschera completa. Il giorno 17 avevamo pensato di realizzare una festa di carnevale che ancora non abbiamo definito bene come luogo, ma che potesse prevedere anche, oltre al momento per stare insieme, anche una parte dedicata proprio anche alla presenza di queste maschere, che tra l'altro rimarranno poi ai bimbi che le hanno realizzate perché sono manufatti di loro proprietà, e noi magari ci impegneremo a creare una situazione che attraverso letture o momenti di spettacolo possa rallegrare quella giornata.